Champagne Thienau è stata creata dal mio padre nel 1985, si è installato a Reims, dove abbiamo due chilometri di cantine sotto la nostra casa. Prima lui si occupava di fare intermediazione nel Champagne, è stato uno degli intermediatori più importanti di Champagne, grazie alle sue relazioni privilegiate con i vignaioli è riuscito a creare la sua casa di Champagne nell'85. Abbiamo 30 ettari di vigneto, lavoriamo mio padre, mio fratello e io stessa insieme. Qual è la caratteristica di vostra casa che preferite? Siamo una casa completamente indipendente e familiare. Non è molto spesso così in Champagne. Sono 13 anni che mio fratello e io lavoriamo insieme e quindi è un'avventura che abbiamo creato con il nostro padre. Dall'inizio abbiamo uno stile nell'85. Il nostro papà l'ha definito con il nostro enologo e il nostro enologo è con e con noi dall'inizio della nostra avventura. Pouvez-vous nous presentare le Champagne che avete qui? Allora, io vorrei vi presentare, in primoio, ovviamente, il Brut. Il Brut è la signatura della Maison Tieno ed è la firma della Casa Tieno, un assemblaggio dei tre vignetti champenois e definisce proprio lo stile Tieno, frutta, freschezza e frutta. e finezza. Comunque abbiamo sempre 4-5 anni di invecchiamento per mantenere la freschezza, ma anche una bella complessità, una bella ricchezza. Questi sono le cuve famiglie, la cuve Stanislas che è mio fratello, la cuve Garance che sono io stessa e la cuve Alain Tieno che è il papa. e il papa. Quindi, per la cuve Stanislas, noi siamo uniquemente su un Blanc de Blanc. Qui abbiamo un Blanc de Blanc, il lo Stanislas. Garance uniquemente Pinot Noir. Garance solo Pinot Nero. Alain Tieno è un assemblaggio Pinot Noir e Chardonnay. Su queste tre cuve, abbiamo solo Grand Cru e Premier Cru e che provengono principalmente dai nostri vignetti. Quindi abbiamo un controllo permanente del terroir e fare degli assemblaggi come desideriamo noi per queste tre cuve. E queste tre cuve sono anche millesimate, tutte e tre. In questo momento, siamo sul 2006 Stanislas, 2007 Garance e 2007 Alain Tieno che è appena arrivato sul mercato adesso, Alain Tieno.